Anche quest'anno Pordenone ospiterà il processo e rogo della Veccia, uno degli eventi folcloristici più interessanti del Friuli occidentale. Si tratta di un processo a tutti gli effetti, recitato in dialetto pordenonese da diversi personaggi, nel quale la Veccia simbolegge il capo espiatorio che prende sulle spalle gli errori commessi dei personaggi pubblici della nostra città durante l'anno trascorso. Con la sentenza di colpevolezza e la condanna al rogo, la rappresentazione assume un significato di rinnovamento per poter ripartire nel nuovo anno alleggeriti e col sorriso. Il rogo della Veccia non è solo sinonimo di divertimento, è divertimento nel senso di satira e quindi anche libertà, quindi c'è divertimento, libertà, libertà di prendere in giro chiunque non risparmiando niente e nessuno. E poi non riesco a pensare a una tradizione più profondamente pordenonese, a una manifestazione più profondamente pordenonese e che quindi è nei nostri cuori, per questo va assolutamente preservata. Alle ore 19 di giovedì 7 marzo il fantoccio della Veccia sfilerà per le vie del centro, scortato come da tradizione dai figuranti dell'associazione Il Castello di Torre e dalla filarmonica Città di Pordenone. Alle 20.30 in piazza 20 settembre inizierà il processo tanto atteso a cui tutti sono invitati. Ma dai, basta cioccolare su tante robe, per me senza motivo. Come che vuole che la sia in grado di avviare tante iniziative e sta pure veciuta? Ma sta pure veciuta tonone in cariola, collega. Io lo so a tutti che perciò per il culo la gente la sia stata quella che la ga ispirà l'organizzazione della Sagra della Nutria, con i mona che i gizze cascai già pronti a maniarsi la mistecca di una delle bestie, buone sole che ha scavato buze sulle sponde di un sel. Ma sta reginetta di bruttezza, sta visione di mal di panza, che iniziative la Gabriele Ciappà? Brusarla, brusarla e basta Astrega! No, calma, calma, calma. È l'unica manifestazione che effettivamente in dialetto pordenonese si rappresenta in piazza, quindi è una bella tradizione molto seguita dai pordenonesi che hanno a cuore la propria città e l'appartenenza a questa nostra comunità. Durante tutto il giorno di giovedì saremo a visitare le varie scuole, ben 12 plessi scolastici, dove verrà illustrato ai bambini proprio questo tipo di iniziativa. Quindi vi aspettiamo tutti in piazza 20 settembre alle 20.30 per la 52esima edizione del processo Rogo della Veccia.